Hanno ottenuto l'impegno ad essere ascoltati e ricevuti anche dal questore di Salerno nei prossimi giorni, cittadini che fanno parte del Comitato San Francesco. Ieri, presso la sede del Comitato, l'incontro con il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è stata anche l'occasione alla presenza dell'assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto, e del presidente della Commissione Ambienti, Arturo Giannelli, di snocciolare i disagi che affliggono la vita dei cittadini nella zona dove si è registrata negli ultimi tempi un escalation di rapine. Per questo, centrale nella discussione nel confronto con il sindaco, è stata anche la questione sicurezza, ma come emerge dal resoconto dei rappresentanti del Comitato sono stati diversi gli argomenti affrontati. L'incontro è stato molto positivo anche perché sono intervenuti dei commercianti e molti cittadini del quartiere. Abbiamo rappresentato al sindaco alcune problematiche molto serie, una è la sicurezza e abbiamo chiesto anche se era possibile avere un incontro con il questore e il sindaco ha detto che avrebbe provveduto a trasmettere la nostra richiesta. Abbiamo parlato del dissesto delle strade, dei marciapiedi in particolare perché comportano la caduta di tante persone, compreso chi vi sta parlando, mi scusi. Inoltre abbiamo segnalato un grosso problema legato ai fiumi e torrenti che attraversano la città, specialmente dalla parte del centro storico, i cui alvei non vengono puliti probabilmente da 50 anni, 60 anni e ho ricordato al sindaco io personalmente, lui se lo ricordava, che negli anni, fine anni 50, inizio anni 60, avviarci all'altezza del Ponte dei Diavoli, fece tappo, ci fu una forte pioggia e il mando stradale saltò. E poiché questi non vengono puliti da anni, devono essere puliti. E viene soddisfatti delle risposte avute dal sindaco? Sì, il sindaco è stato molto ma molto disponibile insieme a Paola De Ruberto, hanno dato tutta una serie di spiegazioni, per quanto riguarda gli alvei, Paola De Ruberto ha detto che il problema è legato a un fatto burocratico perché non è che non si sa, la competenza va tra il comune di Salerno, la provincia e forse anche la regione. Come vi siete lasciati? Vi incontrerete ancora? Sì, ci sentiremo ancora, gli inventeremo una PEC riassuntiva di tutto quello che ci siamo detti e in particolare abbiamo evidenziato il problema dei parcheggi, però il problema è difficilmente risolvibile.